Musica 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 Allora Musica Musica Allora fremo le mani al cielo La terza Musica Musica Allora adesso ragazzi che facciamo basta cosi no poi si sta al contrario ehi la testa avvio o fermo ci rimani male e allora occhio adesso vai e vai e poi vai e poi prendi questo riso e ci rimani male e ci rimani male pure come il tipo mi diceva ma ancora tra i miei passati fuma delle pane è un ruolo è un ruolo e ci rimani male e ci rimani male facciamo un saluto al pubblico dai Gianni Junior adesso si addormenta adesso si addormenta grazie me la fate me la fate me la fate tutto il colo vai due mani vai tutti tutti ho le mani a cielo grazie è un ruolo che mi la fate mi la fate è un ruolo è un ruolo è un ruolo che mi la fate è un ruolo Scusate, ho detto ruolo! Sì ragazzi Perfetto Sì ragazzi Perfetto E la terza le mani 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 E la terza le mani